benvenuti o bentornati in dolcezza e magia oggi nel mio bancone preparo una ricetta francese le lingue di gatto senza uova cominciamo subito in una ciotola ho messo del burro vegetale appomata cioè molto morbido ma non liquido ho mescolato e ho aggiunto lo zucchero a velo per sostituire le uova ho usato l'acqua di conservazione dei ceci conosciuta anche come acqua faba a cui ho unito un pizzico di sale e poi ho sbattuto leggermente con una forchetta si formerà una leggera schiumetta ho versato l'acqua faba nella crema al burro e ho mescolato fino a creare un composto omogeneo poi ho aggiunto la farina e la vaniglia a questo impasto ho versato questa crema densa in una sacca da pasticcere e in una teglia rivestita da carta forno ho creato tanti bastoncini della stessa misura con queste dosi che troverete come sempre elencate nelle note sotto il video ricaverete circa 14 lingue ho infornato i biscotti in forno già caldo a 180 gradi per circa 12 minuti saprete che sono pronte quando i bordi si coloreranno ma il centro rimarrà morbido questi biscotti sono molto delicati sono perfetti per accompagnare il tè del pomeriggio e possono essere serviti così semplici che è il modo in cui io li preferisco oppure potereste anche spolverizzarli con del semplice zucchero a velo o bagnarli nel cioccolato fuso se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' del vostro tempo con me a presto a presto a presto a presto a presto a presto